Eccoci qui con Franco Civicosta a commentare questo successo della Pro Livorno Sorgenti sul Castiel Fiorentino nell'anticipo della settima di ritorno in eccellenza a Gironea, una vittoria molto importante. Magari la Pro Livorno non è stata bella, a vedersi come in altre occasioni, però estremamente concreta. Partirei da qui, a te la parola, mister. Sì, altre partite siamo stati più belli nella manovra, nel palleggio, però avevamo di fronte una squadra forte, tosta, fisica, che veniva da cinque vittorie, quindi in fiducia, i ragazzi l'hanno interpretata bene. L'avevo chiesto di essere anche un pochino belli, meno belli, però di farsi trovare pronti dal punto di vista della battaglia, del duello, perché era tutta una partita di duelli a centrocampo soprattutto, loro una squadra fisica, però insomma una vittoria importante, pesantissima, che i ragazzi hanno voluto fortemente, insomma siamo contenti. Si sale a 32 punti e si rimette alle spalle il Castel Fiorentino, è un passaggio importante, ovviamente c'è ancora un bel po' di strada da fare, però sicuramente è un passaggio importante. Sì, la classifica fa piacere guardarla, domani vediamo cosa fanno le altre, però insomma facciamo un bel salto in classifica, allontaniamo ancora di più lo spettro dei play-out, che è quello che mi interessa di più e ci avviciniamo poi alle prime posizioni e vediamo. Ora ci godiamo questa vittoria, non pensiamo a raggiungere punti obiettivi. L'obiettivo primario, come ti ho sempre detto, è allontanarsi il prima possibile dalla zona rischio e poi vediamo se siamo bravi a guantare qualcosa di più importante. Ora ci vediamo qui, è stato a martedì, pensiamo a San Marcovenza. È giusto godersi questa vittoria, figlia di una prestazione, se vogliamo, un po' dai due volti. Primo tempo, insomma, meno brillante per quanto riguarda entrambe le squadre, poche occasioni. Il secondo tempo invece la Viglione ha finalmente alzato un po' l'intensità, si è visto anche un certo tenore al punto di vista della condizione fisica che rinfranca 3-4 accelerazioni, una di queste è andata bene, un gol annullato e fuori gioco, segna ancora Angiolini per la seconda rivolta consecutiva in casa e poi subito il cambio probabilmente per cercare di difendere questo risultato con le unghie e con i denti. Sì, il primo tempo abbiamo un po' sofferto le pallonate che facevano loro su Ferretti davanti e quando la prendevamo spesso la perdevamo subito, troppo velocemente. Il secondo tempo abbiamo giocato meglio, abbiamo palleggiato meglio e mi è piaciuto il fatto che la squadra il secondo tempo ha voluto la vittoria, ci ha creduto, ha spinto sull'acceleratore. Fisicamente la squadra ho visto che mi fa piacere e sta bene, mi fa piacere il gol di Angiolini, un giocatore che ha delle qualità straordinarie e se trova la continuità, la convinzione di fare le cose che fa in allenamento è un giocatore straordinario. Poi all'ultimo, come hai detto te, l'ho tolto perché era stanco, ho messo un difensore in più perché loro giocavano con quasi 4 attaccanti quindi ci siamo messi a 5 per prendere un po' questi lanci lunghi ma le provavano di tutte. Però insomma alla fine dai, io penso che i ragazzi abbiano meritato questa vittoria. Vittoria che sancisce il quarto, risultato utile e consecutivo, anche questo è un aspetto importante anche in vista del prossimo impegno, si va in trasferta contro il San Marco Avenza, c'è la possibilità e anche ovviamente l'obiettivo di allungare questa striscia positiva. Sì, il quarto risultato utile e consecutivo, due pareggi, due vittorie, avevo chiesto continuità, questa è arrivata, ora non ci dobbiamo fermare, dobbiamo continuare, domenica andiamo a San Marco Avenza, un campo insintetico, piccolo, dobbiamo adeguarci subito alle condizioni, però se lo spirito dei ragazzi è questo, mi fa ben sperare per il proseguo. Ecco, i ragazzi sono tutti, hanno capito che sono tutti titolari, non c'è riserve, anche i giovani che vengono dalla minore, se oggi è entrato sottile, quindi un 2005, insomma, sono veramente contento, chiaramente per i tre punti, però per tutto quello che gira intorno a questa squadra, per come sta lavorando, per l'armonia che c'è, e sì, sono veramente, veramente contento. Bene, ringraziamo allora Mister Ciricosta, buon prossimo episodio. Grazie a voi.